Ciao amici, oggi vi mostro la soluzione gratuita per la gestione di progetti che sostanzialmente uso tutti i giorni per lavoro. Ora, la soluzione migliore per la gestione dei progetti secondo me è Microsoft Project. Diciamo che in alcuni contesti ho avuto modo di utilizzare questo modulo di Microsoft per la gestione dei progetti e devo dire che è veramente comodo, facile da usare ed è davvero tanto potente. Ha però un limite, cioè ha un costo. Dunque, se lo avete a disposizione, perfetto. Se non doveste averlo a disposizione, quindi doveste sostenere costi di questo tipo, magari potrebbe essere utile per la gestione saltuaria o anche in realtà regolare dei progetti, utilizzare soluzioni alternative, comunque compatibili con progetti, perché in tanti usano progetti per lavoro, quindi è utile avere un file compatibile con quello che utilizza progetti, solo che chiaramente avere questa possibilità in maniera gratuita è ancora meglio. E' la suite che permette di avere questo tipo di gestione, quindi gestire progetti alla stregua di progetti, o più o meno alla stregua di progetti, con un costo pari a zero, è questo che vedete, quindi progetti libri. E' un software gratuito che si scarica da questo indirizzo qui, che vi lascio chiaramente poi direttamente nella descrizione del video. Dunque, a partire da questa pagina, premendo sul download, si accede a questa sezione e si scarica facilmente il file. Ora, vi faccio vedere un esempio concreto di come si utilizza progetti libri e in particolare ho importato un file di esempio che per evitare di farvi vedere i file che uso io, perché sarebbero abbastanza... a parte che non li potrei condividere, ma comunque riguardano tematiche un pochino più specifiche che non tutti magari riescono a cogliere a pieno, mentre questo file di esempio riguarda la gestione di un matrimonio. Quindi, il matrimonio è in pratica un grande progettone composto di tanti task, quindi cosa di più bello da gestire se non un matrimonio con un software di project management? Ed ecco quindi il grosso modo, un po' di attività relativa al matrimonio organizzate secondo un Gantt, che abbiamo qui, e attività tra loro legate. Ora, a prima vista, come potete vedere, diciamo, è abbastanza intuitivo, perché sulla schermata di sinistra vedete la lista di attività con durata, data di avvio e i legami tra le varie attività. Quindi, per esempio, l'attività 3, quindi determinare il costo della chiesa e la disponibilità, è legata all'attività 2, e questo lo vedete nella colonna predecessori. Qui, qui, e anche a livello di Gantt, come vedete, sono concatenate in questo modo le varie attività. Poi, chiaro, essendo concatenate, spostando la durata di un'attività, quindi facendola durare, per esempio, due giorni, vedete che il tutto si adegua in maniera abbastanza semplice. Si possono introdurre relazioni, dipendenze multiple tra le varie attività, come in questo caso, quindi l'attività 8 dipende dall'attività 4 o dall'attività 7. Dunque, impostare la data del matrimonio dipende dall'aver selezionato la location e dall'aver identificato la chiesa, quindi, diciamo, fila abbastanza come discorso. E poi, come vedete, si possono le attività organizzare in sottogruppi, quindi, in realtà, queste sono... è una struttura di VBS, quindi questa sarebbe una VBS padre e queste le VBS figlie, cosa che potete vedere un pochino meglio dalla... se vedete qua in alto, è possibile selezionare il quadro delle VBS, quindi, come vi dicevo, dalla VBS padre, che in questo caso è una e due, sono due le VBS padre, si estendono una serie di VBS figlie, che chiaramente poi possiamo concatenare un po' a piacere, e sono identificate da questo, proprio da un codice VBS. Quindi, in questo scenario è abbastanza facile, se avete modo di lavorare con VBS, questo codice VBS può complicarsi a piacere, però, diciamo, avete modo di utilizzare questo tipo di funzionalità. E per ogni attività è possibile assegnare delle risorse, quindi in questo caso, vabbè, c'è solo come risorsa il Wedding Planner, quindi, sì, viene assegnato a questa attività, e vediamo che... questo diciamo che era un esempio bello e fatto, vi vorrei far vedere come è possibile gestire una nuova VBS, e quindi, se vogliamo, un nuovo albero che, per gestire, che ne so, è la fase finale del matrimonio, quindi chiamiamolo Finish Steps, giusto perché è tutto in inglese, lo faccio pure io, tutto in inglese. Quindi, alla fine che vogliamo fare, alla fine del matrimonio? Facciamo un po' di saluti. Poi, torniamo a casa. Basta, per esempio, gli step finali sono questi due, mettiamo. come organizzare queste tre attività, diciamo, queste due attività sostanzialmente, che però io voglio organizzare sotto una macro-categoria che viene definita Finish Steps, quindi sostanzialmente vorrei che i Finish Steps fossero allo stesso livello di questa riga. Questo per me deve essere una VPS, quindi, una VPS che vede questo come primo ramo e questi come sotto attività. Dunque, io vado in avanzato e questo la chiamo VPS, sarà la terza e questo è, in pratica, il livello 3.1 e questo qui sarà il livello 3.2. sarà l'item 3.2 della VPS. Come vedete, non è andata... non sono stati identificati i livelli come nel caso precedente. Questo perché bisogna fare un piccolissimo step, cioè andare sul reticolo della VPS e legare i... dove sta... i, 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 i... questo qui... lo devo legare a questo e questo deve andare anche così. Quindi, come step finale, vorrei che questo fosse gestito in questo modo e va bene. Però, come vedete, io vorrei che in realtà questo cominciasse alla fine di questo qui. Quindi, come predecessore, io gli metto che gli step finali devono avvenire dopo il... no, lo step 9. Quindi, al completamento dello step 9 si comincia con le robe finali. Ok, questo lo vede come sottotask, quindi devo ancora sistemarlo un pochettino perché questo deve stare su questo. Rimuovi. Ok. Dunque, tornando... ho messo a livello di UBS i finish steps come il primo ramo e, come figli degli step finali, tornare a casa e fare i saluti. In realtà, forse, magari è meglio metterli al contrario. Quindi, prima facciamo i saluti e poi torniamo a casa. Bu, questo capiamolo un attimino. Sta di fatto che i finish steps devono arrivare dopo quello che succede allo step... alla... alla riga 9. Quindi, dopo aver completato la procedura di invito, diciamo così, e facciamo... magari torniamo a casa e poi salutiamo, quindi va bene. Mettiamo che i saluti li facciamo dopo essere tornati a casa, quindi mandiamo i saluti, un video di saluto a tutti gli invitati, per esempio. In questo modo leghiamo le due attività, così come vedete. E la... il contenitore VBS, quindi finish steps, come vedete, è una durata di due giorni, punto interrogativo, perché somma la durata delle attività figlie. Quindi, se io gli dico che queste in realtà i saluti li faccio in due giorni e confermo che per tornare a casa ci metto un giorno, quindi non è una durata stimata, ma è una durata reale, vedete che non c'è qui il punto interrogativo, in effetti l'ultimo finish steps, quindi l'ultimo elemento di VBS dura tre giorni, questo lo calcolo in automatico, chiaramente. E altra cosa, ad o, per il momento ho solo definito la lista di attività, quindi siamo solo a livello di gantt, ma in effetti non ho assegnato risorse per questa attività qui, quindi io voglio assegnare a chi a non al wedding planner questa roba qui, ma la faccio alla sposa e alla sposa, perché sono loro a dover fare i saluti e tornare a casa, quindi prima di tutto mi vado a vado nel quadro risorse e aggiungo vabbè bride and home quindi ok lo sposo e la sposa b g quindi dopo aver definito questa risorsa torno sul quadro attività e chi torna a casa lo sposo e la sposa dunque assegno alla mia risorsa l'attività in questione così come quest'altra attività e vi faccio vedere una cosa carina che chiaramente a livello di gant non cambia nulla perché le attività le ho definite e le attività me le ritrovo però in termini di risorse cambia tanto perché se voglio avere un quadro di quanto stanno lavorando le mie persone basta che vado sullo schermato risorse e vedo qual è l'uso delle risorse che ho quindi quali sono i task che gli sono stati assegnati in corrispondenza di quali giorni e quante ore alla fine hanno da lavorare poi se voglio andare in maniera puntuale su una risorsa basta che la seleziono e vedo all'interno di questa schermata quali sono le attività che ha in carico ora vi ho fatto vedere qualche piccola funzionalità di questo programma ma sostanzialmente queste sono le funzionalità che uso io dunque definizione dei vari task legame tra i vari task che si fa banalmente indicando il predecessore in questa colonna qui le varie date di inizio fine con la durata che varia in funzione anche delle ripianificazioni che devo fare e la distribuzione delle risorse che ho quindi da questa schermata vedo quanto sono cariche le persone che lavoro e quali sono i task che gli sono stati assegnati di sicuro il programma può fare tanto altro tanto di più però diciamo che per quello che serve a me questi pochi step mi semplificano abbastanza la vita e aprendo semplicemente il programma e dando uno sguardo a queste due schermate ho un quadro più o meno chiaro di quello che succede spero di esservi stato utile vi lascio chiaramente in descrizione i link per il download del programma di project libre e se avete dubbi o altro scrivetemi lì nei commenti vedrò di rispondervi appena possibile ciao a tutti grazie a tutti